Michele Tatulli era uno di noi, un cittadino di Vitonto, ma anche un agente poi di Polizia di Stato, che però è uscito per fare il suo dovere non solo come agente, ma come servitore dello Stato stesso. E oggi ricordare di quanto si è privato Michele e la sua famiglia pur di servire lo Stato e paragonarlo poi ai piccoli sacrifici che lo Stato ci chiede per aiutare tutta la nostra società, forse pensando a questo ci lamenteremmo meno, forse pensando a questo capiremo e comprenderemo meglio quanto siamo importanti noi stessi per lo Stato. Ecco, oggi abbiamo voluto ricordare Michele in questo modo, come servitore dello Stato, una persona che ha sacrificato tutto per lo Stato italiano e per la patria e ancora oggi, secondo me, si sacrificherebbe ancora, ancora e ancora.